www.feyyaz.tv Grazie a tutti. Grazie a tutti. E hanno, diciamo, il ranking buono, undicesima posizione con 36 punti, mentre invece hanno chiuso l'Under League, hanno chiuso l'Under League al secondo posto a pari punti con gli Sconnet Team. E poi hanno vinto gli Sconnet Team per scontro diretto. Quindi, secondo posto, discorso inverso per la macchina che al 26esimo posto si trova solamente 9 punti. E ha chiuso l'Elite all'ultimo posto con solamente 3 punti. Settimana scorsa ha giocato l'ultima partita contro l'Italia. Adesso si appresta a giocare questo ottavo Europa League. Quindi, detto questo, partiamo con le formazioni direttamente dal Borussia Stordmund. Partiamo con la novità. Andrea Borriello tra i pali. Non c'è Iengo. Poi Mancini, Avecone e De Vito. Puzzillo, Amedeo. Libraro, Loffredo. Ed Esposito. Non c'è imparato che è andato fuori. Quindi, intanto, il tiro di Avolio. Dicevo, non c'è Iengo, è imparato. Due assenze molto importanti. Mentre invece, per la macchina, i soliti, Calise tra i pali. Cafiero, Dibonito e Magliozzi. Spicciariello, Ferrara, Avolio. Con Ricchi, Conversano e Spigolo. Minichino. Ha detto di chiamarlo Spigolo. Quindi andiamo in gioco. Cafiero, Ferrara, palla fuori. Pronto Mancini. Con la rimessa. Cafiero esce. La palla a Ricchi. De Vito recupera. Magliozzi, Veravoglio, che lancia Di Bonito. In mezzo. Salva, Avecone. Ricchi con le mani. Avolio. Ancora Ricchi. Recupera. Calcia in porta. Valla fuori. Messa per Borriello. Avecone. Vallunga. Libraro. Cafiero libera. E c'è Ricchi. Ancora Ricchi. Valleggio. Supera, De Vito. Lancia. Avecone in uscita. suo Amedeo. Ancora Avecone. C'è Loffredo. Chiude Avolio. De Vito. Qua conversano. Sta... Eliminazione diretta. Sì, sì. Sta facendo dei calcoli. Intanto in porta ci ha provo da Amedeo. Dicevo, sta facendo dei calcoli che il risultato per la macchina non sarebbe quello previsto. Non fatevi sentire dal vostro capitano. Infatti questo toiate. Cafiero intanto centralmente c'è Avecone. Loffredo aggancia male. Magliozzi quasi va in porta. C'è Borriello. Che la blocca. Ancora. C'è nessuno libero. Borriello avendo avanti. Di Bonito all'indietro. Spigolo. Minichino ancora. De Vito. Si porta la palla sull'esterno. Ancora De Vito. Ricchi. Ancora Minichino. Lancia Ricchi. Avecone. Guadagna anche la rimessa. Ancora Avecone. Va a lunga a cercare di trovare Libraro. Avecone. Perno di questa difesa. Amedeo lancia De Vito sulla fascia. Ancora Mancini. Non era De Vito era Mancini. De Vito è stato qua. Mancini intanto come ho detto in calcio d'angolo. Amedeo. Pronta a battere. In mezzo di testa Mancini. Valla fuori. Ancora Cafiro. Si va da Ferrara. Ancora Ferrara. Ricchi di tacco. A liberare Ferrara. Di Bonito. Si mangia. Questo 1 a 0. Ottima occasione qua per la macchina. Avecone. Centralmente. Non ci arriva Puzziello. C'è Ricchi. Libraro. Libera. Può andare. Palla su Di Bonito. Libraro. Guadagna. Ancora la macchina questa rimessa. Puzziello. L'offredo. Può andare da De Vito. Ancora De Vito. In mezzo. C'è Calise. A blocca. E si va subito da Cafiero. Ancora Cafiero. C'è Ricchi. Si va invece da Volio. Centralmente. A cercare di trovare Ricchi. Che lancia. Minichino. La palla che arriva adesso. A Minichino di tacco. Per Ricchi. Ricchi. Ancora Di Bonito. Avecone recupera. E subisce questo fallo. Spicciariello un po' confuso. Avecone va in mezzo. La palla che arriva. A Calise. Ma io mi sto riscaldando. Non so che pensare. Ricchi. Caffiero sembra il prof. Mettiamo il prof. Avalio. Palla che esce di poco. Innacce. Quella che sentiamo. La fiera che vuole tutti sui latenti. Per giocarsi. Questa nuova league. Come. Per vedere magari. Il gioco. Quella macchina. Dell'edizione passata. Ci ha regalato. Grande emozioni. Vorrei ripartire da qua. Caffiero. Tanto. Amedeo. Si gira. C'è Ricchi che recupera. Ricchi. Palla messa a terra. C'è fallo. Non è possibile. Caffiero va subito in avanti. Minichino di petto. Si dispalla. Mancini all'indietro. Borriello in avanti. La palla che favorisce Libraro. Ancora Libraro messa a terra. Regolare dice il direttore di gara. Caffiero. C'è Di Bonito di qua. Caffiero. Va da Magliozzi. Ancora Magliozzi va in avanti a cercare. Minichino. C'è Avecone di testa. Di Bonito di testa. Ricchi la mette giù. Va da Ferrara. Ancora Ferrara. Si gira bene. La dà da voglio. Puzziello sul pallone. A cercare a Medeo. C'è Ferrara sul contrasto. Ancora Ricchi. Caffiero in avanti. Avecone chiude. Di testa a Medeo. Puzziello. Palla fuori. Ancora Caffiero. Si riparte dal basso. Ferrara. Ancora Ferrara. C'è Avoglio. All'indietro per Caffiero. Ferrara recupera. E la dà ancora Caffiero. Che gira a Magliozzi. Centralmente Puzziello recupera. Può partire. Lancia De Vito. Caffiero recupera. C'è Avoglio. Che può partire in contropiede. La palla a Minichino. Vince il rimpallo. Poi col destro. Avecone. Bello l'intervento. Palla che esce. Quella di Esposito. Di Bonito va a lunga. Minichino. Avoglio. In mezzo forte. Calcio d'angolo. Ancora Vecone. A contrastare. Di Bonito. La palla rimane là. Ancora calcio d'angolo. Avoglio. Va in mezzo. Mancini libera. Ma c'è ancora Ricchi. Che va lì indietro. A cercare. E trovare Caffiero. Ancora Caffiero. Ricchi. Si va da Di Bonito. Sbaglia il passaggio. E può partire Esposito. Molto pericoloso qua adesso. Il Borussia Stordun. Esposito. Libraro in aria. Ancora Luiz. In mezzo. Non si è capito. C'era più un cross. Che è un tiro forse. Avecone. In avanti. Esposito di petto. Sbaglia. E c'è Di Bonito. Che va da Ferrara. Ancora Ferrara. All'indietro Caffiero. Palla che arriva a Ricchi. Tiene il pallone. Ancora Ricchi. Palla fuori. Ferrara. Pronto a battere con le mani. All'indietro Caffiero. Mancini recupera ben avanti. Ancora rimessa. Pronto a battere. Mancini. Va a lunghissima Mancini. Di testa Caffiero. Cugziello recupera. C'è De Vito. Ancora Ferrara. Esposito. Ricchi. Di Bonito. C'è De Vito. In avanti. Libraro. Ancora Di Braro. All'indietro. Calise. Mancini. Andare avanti. Amedeo. Ancora. In mezzo al Libraro. Calise. Ancora Calise. Incredibile. Che parate. La mano arriva nella. Magliozzi. Distrazione. E' qua. Falciato Ricchi. Caffiero. Sono rischiato a farlo contro. De Vito. Ricchi in avanti. Avecone. Prende bene il tempo. Esposito. Recupera. Va all'indietro. Ancora da Avecone. Si gira da Mancini. Pressato da Ferrara. Mancini va in avanti. C'è Ricchi. La palla che arriva. A Conversano. Ancora. Conversano. Palla su Avecone. Arriva a Libraro. C'è Cafiero alle spalle. Palla fuori. In avanti. Conversano. Di Bonito in avanti. Cercare Spigolo. Mi ha detto a voglio. De Vito. Vai in avanti. Di Bonito. La palla che arriva. A Minichino. De Vito. Salva. Può partire adesso. Pugziello. Ancora Pugziello. In porta. C'era Luis da solo. Avecone lancia lungo. Di testa. Non ci arriva. Esposito. Divete al fondo. Perchè? Sto caccio. Sto caccio. Sto caccio. Sto caccio. Guarda questo. Non caccio. Eh. Capiero. Questo è per te. Capiero vai in avanti. Ricchi. Borriello. In uscita. Sbagliate Vito. Non controlla bene. Di Bonito vai in avanti. Avecone. A salvare. E vai in avanti. Libraro. C'è De Vito che corre. Libraro lo serve. Esposito. C'era esposito che arriva. Chiusi. In avanti. Pugiello. La parata di Calise. Ricchi. Ficciariello. Conversano. Ancora Conversano. Avecone. Bella fin qua la partita del difensore del Borussia Stordmund. Non ha sbagliato un intervento. Con le mani. Ancora Avecone. Libera. Palla fuori. Di Bonito con le mani. Palla fuori. Di Bonito. Avecone di testa. Libraro. C'è Ferrara. Capiero. Sbaglia. Attenzione. Libraro. La parata di Calise. Ma qua errore. Errore di Cafiero che poi recupera. Ma c'è una bella parata di Calise che salva il risultato. Di Bonito la butta fuori. Di Bonito ancora Calise va con le mani lunghissima a cercare di trovare Ricchi che si porta il pallone fuori. No 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 ho detto rompilo. Bravo L'ho freddo. Bravo Leo. Forse è sbagliato Lato. Esposito. Messa ancora Borussia Stordmund. Puggello con le mani Calise Cafiero Vallunga a cercare Ricchi controlla ma non riesce a buttare la palla dentro attento a qua Borrillo Ciao Vecone Vallunga Esposito controlla ancora Esposito si gira in mezzo Cafiero la palla nella Calise la fa sua e vada Cafiero Cafiero in avanti Ferrara sbaglia il controllo c'è Puggello c'è Puggello De Vito Ferrara recupera e può approfittarne ancora Ferrara si gira bene la dà indietro a Ricchi finta il sinistro ancora Ricchi viene chiuso e ricomincia da Cafiero ancora ancora capito Magliozzi da Ricchi che non ci crede abbastanza palla fuori va Mancini lunghissima pallo quello di Amedeo Cerello sulla palla palla da voglio sbaglia il passaggio c'è Esposito si gira bene attenzione a voglio a vegone chiude c'è L'Offrido appena avanti ancora L'Offrido Mancini Libraro con un numero Libramedeo lancia Libraro Libraro palla che esce davvero qua di poco davvero palla uscita davvero di poco qua grande numero di Libraro Cafiero va da Spicciariello ancora Spicciariello centralmente da Conversano Tullio ancora chiude Buzziello poi porta ci ha provato di Bonito palla fuori rimessa per Borriello Borriello pronto al rinvio si ci andrà Avecone che va a lunga di testa di Bonito direttamente in fallo laterale Esposito con le mani Cafiero la butte fuori Libraro libera Pugziello ancora da Libraro in porta Libraro c'è Esposito morbida Avecone non ci arriva c'è Minichino Pugziello Esposito in mezzo c'è Avecone non stacca bene c'è Spicciariello che va in avanti messo ancora per il Borussia Stordmund che è più convinto quanto attacca Pugziello in mezzo Calise vada Cafiero in avanti Tullio ancora con Versano Amedeo la palla che non esce invece si finisce qua il primo tempo di una partita molto equilibrata molto tosta risultato inchiodato sulla 0 a 0 iniziato ora questo secondo tempo tra la macchina tra la macchina e il Borussia Stordmund risultato che è sulla 0 a 0 Spicciariello cambia e vada Magliozzi Ricchi c'è Minichino lo Pugziello recupera poi in mezzo Avecone ancora di Bonito pronto a battere palla fuori assolutamente fuori pronto di Bonito battere mezzo Ricchi non va poi in porta ci ha provato Minichino davvero un'ottima occasione qua Borriello pronto a battere se no ancora Avecone invio lunghissimo a cercare Sposito valla che passa e va fuori finché dal fondo Capiero si va da Spicciariello che può correre sulla fascia ancora Spicciariello si ferma ancora Capiero Magliozzi ancora da Capiero si ricomincia Di Bonito Ricchi all'indietro da Magliozzi spazi tutti chiusi si sta difendendo bene qua il Borussia Ricchi Spicciariello la carica di Buggiero poi Magliozzi molto duro qua va Avecone Cafiero risultato 0-0 molto combattuta Spicciariello libera libera spalla fuori calise Magliozzi Magliozzi c'è Capiero ancora da Magliozzi di Bonito Ricchi con le mani a voglio ancora a voglio vince il contrasto e va in avanti Minichino a liberare a voglio col destro palla ancora su Avecone che oggi davvero sta facendo una signora partita e ovunque Avecone con le mani di Bonito Avecone di testa liberare a lanciare esposito si ferma la dà indietro all'offredo che va in avanti messo un po' difficoltà palla fuori Ricchi Pugiello di testa c'è Magliozzi a voglio all'indietro a cercare Capiero che va in avanti Mancini attenzione Libraro quasi non si libera Magliozzi Capiero avanti Minichino di forza c'è Amedeo però di tè di tacco Magliozzi vada voglio palla a Ferrara ora Ferrara subisce fallo all'offredo fate subito Ricchi va in porta palla fuori Borriello va Vecone lunga di testa esposito Libraro viene falciato calcio di rigore calcio di rigore per il Borussia Stordmund viene falciato da Calise quindi Libraro contro Calise parte Libraro per l'1-0 di Libraro quindi vantaggio per il Borussia Stordmund su calcio di rigore realizzato da Libraro in avanti Caffiero cercare di Ciave con Ricchi in rovesciata la palla che arriva nelle parti di Loffredo viene messo giù intanto di là si è fatto male Calise di colpo di freddo per Calise che si è ripreso troppo con questo freddo buon riscaldamento intento in porta ci ha provato Avecone col salvataggio di Calise va devito Caffiero libera e vai contro al pallone ancora Caffiero fallo Anna batte subito avoglio libera ancora avoglio si va da Minichini Minichino palla fuori ancora Minichino Ferrara ancora Vecone guadagna questa rimessa pronto a battere l'ho freddo manico le mani lunga c'è Ferrara ricchi ancora Ferrara De Vito libera ma c'è Magliozzi che qualche modo va in avanti ancora Avecone l'ho freddo freddo avanti l'ho frido a voglio fallo su conversano a battere ricchi va morbida Borriello la fa sua quindi per Borussia Stordmund secondo ottavo di finale consecutivo l'anno scorso aveva passato all'ottavo vincendo con Yoga Malito quest'anno Yoga Miami che si è qualificato anche Yoga Miami che si è qualificato ai quarti di finale battendo il barrio comunque Borussia Stordmund che l'anno scorso sotto il nome di Westesh aveva vinto 2 a 1 poi perso ai quarti contro il GP Togala 3 a 0 questo era un aneddoto dell'edizione passata di questa era paligra esposito intanto può partire in contropiede si lancia anche De Vito la chiusura di Maggiozzi Amadeo ancora esposito la fascia esposito non passa su Maggiozzi ancora Barussia stord mondo c'è Avecone sul secondo palo entra ora Avecone non ci arriva rimessa per la macchina spicciariello vada capirò la mette giù bene e controlla poi lancia lungo Ricchi ancora Ricchi va in mezzo fallo di Mancini rimasto a terra Ricchi proprio questo duro scontro di gioco con Mancini si fa c'è riduzione con spicciariello va forte direttamente in fallo laterale l'offredo esposito da De Vito c'è una brutta perdita per la macchina si è ripreso Ricchi inichino cerca voglio lo trova ancora voglio in mezzo di Tacco Ferrara per il pareggio della macchina un super gollo quello di Ferrara quindi pareggio palla direttamente le parti di l'inter quindi si riparte ho detto con gol della macchina con un super gol realizzato da Ferrara capirò abbassa cercare minichino ancora minichino libera vuole calciare palla fuori 9 minuti a partire da questa battuta più eventuale recupero calice conversano può andare ancora Tullio Pugiello non lo fa respirare lo freddo poi ma c'è spicciariello va da Ferrara per minichino chiuso da avecone poi Ferrara ancora in agguato minichino grande viter in mezzo di Bonito non ci arriva c'è Esposito la palla che arriva all'offredo Ferrara recupera ancora Ferrara entra in area col destro chiuso da due ma adesso la macchina sta spingendo molto e ha chiuso il Borussia Stordmund nella propria metà campo ancora di Bonito in mezzo di testa della vita liberare c'è Pugiello spicciariello ancora per minichino non supera Mancini sarà calcio d'angolo spicciariello va forte Borriello due volte si va da Libraro in seguito da due ancora Libraro può avanzare fermato da spicciariello pronto De Vito due in barriera per per Calise pronto De Vito va bassa Caffiero libera Pugiello può calciare Caffiero ancora la palla rimane là palla fuori capirò capirò Magliozzi va a lunga Avecone libera attenzione attenzione di minichino era anzi no di Bonito pronto Avecone va a lunga Caffiero di di testa c'è Pugiello ancora Pugiello Calise la palla rimane là ancora Calise Caffiero Magliozzi attenzione 1-1 Di Bonito supera Loffredo e va da Tullio ancora con Versano si ferma Marcato da due si va all'esterno entra in area Librano libera Esposito siamo quasi alla fine di questa partita molto esposito sulla schiena di Magliozzi c'è Librano Mancini chiama il pallone ne è servito ancora Mancini va sull'esterno in mezzo forte Tullio no era Magliozzi che ha salvato Mancini in mezzo messa dal fondo un zio inichino su di lui Ferrara libera ancora Ferrara terribile bel passaggio poi c'è Pugziello che può andare ancora Pugziello lancia lungo e trova Esposito libera la macchina vai porta Calise la fa scorrere Magliozzi Caffiero centralmente da Avolio si gira bene poi c'è Tullio che chiama il pallone la palla da Minichino ancora Minichino in aria la palla che non esce invece si sarà rimessa dal fondo Avegona andrà in avanti lunga Libraro la mette giù di testa per la pallava fuori rimessa per la macchina di Braro c'è Amedeo ancora Spicciariello si va da Cafiero Cafiero Bassa c'è Avolio che intercetta il pallone Spicciariello che con la trive la tensione l'esterno ci ha provato Spicciariello Borriello vai in avanti la Juve Magliozzi si va subito da Mancini che può partire ancora Mancini sfida Minichini lo supera ancora palla fuori rimessa Borussia Stordmund va Mancini Amedeo Libraro ancora Libraro Magliozzi la butta fuori Mancini ancora a battere questa rimessa sarà lunghissima Mancini in aria di testa Ferrara Tullio può partire adesso la macchina con Navolio ancora Maravolio Borriello è stata rimessa dal fondo ma qua Borriello salva il risultato due minuti alla fine squadra che vogliono vincere Calise la fa sua sono quasi alla fine quindi Spicciarello se finisse così le squadre andranno andranno sui calci di rigore diretti avolio Amedeo c'è Puzziello ancora Puzziello tutti in aria qua per il Borussia Stordmund Mancini chiama tutti in aria va in mezzo Calice attenzione la porta è vuota Caffiero salva Avolio incredibile occasione qua Amedeo recupera quindi non è rigore quella per il Borussia ma un'altra grande occasione qua un minuto di recupero Ferrara libera c'è Amedeo c'è ancora questa rimessa lunga Libraro ancora Luis palla fuori rimessa ancora Borussia Stordmund Libraro Amedeo in mezzo Avolio libera e va subito in avanti c'è Minichino che corre Borriello la fa sua e la blocca potrà andare mani piedi lunghissima quasi va in porta 30 secondi alla fine della partita c'è Magliozzi si deve andare in avanti per cercare l'arrembaggio Avolio ancora si gira c'è Ferrara da solo a Ferrara la parata con Versano ancora Tullio in mezzo Avolio l'avvataggio di Mancini che quasi diventa una parata finisce qua che andrà ai calci di rigore quindi Avolio contro Borriello parte Avolio Borriello la naturalizza Amedeo Amedeo Palo anche per il Borussia Sordomundo Di Bonito Ancora Di Bonito questa volta è gol 1 a 0 De Vito contro Calise parte De Vito alta Ferrara 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 contro Borriello Sbaglia si rimane sull'1 a 0 Avecone col destro segna Avecone Magliozzi Magliozzi va Magliozzi segna Esposito Esposito parte Esposito col pallonetto Caffiero Caffiero in corsa breve Caffiero la tocca Borriello Caffiero segna un gran gol libraro pronto libraro libraro segna e si vada altranza non chiamiamo gli stessi 5 andiamo a cogliare vai vai c'hai 8 tiratori tutti hai 8 tiratori dai abbiamo messo le coppie 10 per fare dai conversano va conversano e segna pronto Mancini va Mancini e segna Mancini dopo il primo inizio di errori non ho più sbagliato niente pronto Spicciariello adesso Spicciariello segna anche lui Fuggiel adesso si va Puzziello segna anche a lui si minichino contro Borriello minichino palo e adesso se l'offredo segna se l'offredo segna se l'offredo segna se l'offredo segna vincono chi il Borussia Stordmund e chi sono Loffredo è il Borussia Stordmund è ai quarti di Europa League ma è verità questa partita è una bellissima partita devo dire complimenti a tutte e due le squadre risultato che finito in parità solo i rigori hanno deciso la vostra vittoria partiamo prima da te Ferrara allora segni un bel gol riporti i tuoi sul quel binario giusto infatti anche dopo il tuo gol la concentrazione la vostra è aumentata è quasi non avete segnato l'ultimo secondo due parole a caldo vabbè è la giusta fine di una stagione non all'altezza del nostro livello a prescindere ma poi comunque anche proprio di mentalità e prestazioni generali della squadra quindi comunque non è una sconfitta male sicuramente perché appunto ce la meritavamo secondo me anche con la prestazione di oggi che poteva fare meglio a prescindere poi i rigori hanno deciso la sorte del girone dell'Europa League quindi complimenti a Ferrara salutiamolo mister Mario allora è andata siamo ai quarti grazie a caldo voi avete vinto su calci di gore quindi andrete ai quarti di Europa League dobbiamo andare a caldo giusto perché diciamo che molto velocemente siamo sicuramente contentissimi abbiamo giocato nella maniera migliore possibile ci è venuto a mancare Yeng ci è venuto a mancare Yeng abbiamo trovato un sostituto veramente impeccabile e serio ha fatto una bella parata bella prestazione anche di Borriello sono molto molto contento di tutti quanti abbiamo giocato bene nel calcio bisogna essere obiettivi quindi quarti è un peccato la settimana scorsa dovete vincerla ci dobbiamo vincere per forza l'anno scorso devo dire che avete perso ai quarti 3-0 si abbiamo perso i quarti con Togala tra l'altro con i quali siamo scontrati il settimana scorsa un giro che si conclude saluto ciao ragazzi e dedica forza Borussia Stordun dedica il capitano Mancini sempre